Che succede? Non dovevano seguirli? Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. Ci penso io. Perché una cappella temporanea? Oh buon Dio, ne avrei fatto volentieri a meno. Cosa è stato? Sentite? Cosa? Che cosa? Che succede qui dentro? Un attimo. Ci siamo già passati. Ehm... non mi sembra. Alex, per me siamo già passati di qui. Ci stai facendo girare in tondo? Soup du jus, mademoiselle. Come se sapessi davvero cucinare. Tesoro, quando ci sistemeremo? Sarò il tuo chef de cuisine personale. Cristo, per Dio. Alex, che c'è? Guarda tu stessa. Wow. Ehi, oggi servono stufato di manzo. Delizioso. È come se un giorno tutto si fosse fermato improvvisamente. L'intera nave ha smesso di funzionare. Ehi, fa attenzione. Non è il momento di giocarci. Non si sa mai. Può esserci utile. Non si sa mai. Ok, ora dove diavolo siamo? Credo che si debba andare di qua. Un attimo. Qualcosa non va. Cosa? Cosa? C'è qualcosa qui con noi. Tu non... Cioè... Non hai sentito niente? C'era qualcosa. Si muoveva nell'ombra. Giulia. Giulia, dai. Mantieni la calma. Non ridere di me, idiota. Ok, siamo già passati di qui, ne sono certa. Stiamo girando in tondo. E che proponi? Tornare indietro? Siamo già passati di qui. Ok. No. Io non ce la faccio. Cosa? Fare disgustose in cappelle ripugnanti. Non fanno per me. I fantasmi non esistono. Fantasmi? Anche i fantasmi adesso? Beh, no. Dato che non esistono. Beh, tu lo sai. Io lo so. Ma i fantasmi lo sanno. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Guarda questo. Pazzesco. È un essere umano. Intanto, è mai stato umano. Che diavolo è successo qui dentro? Ok, andiamo. Ora. Via di qui, forza! Ehi. Questo tizio ha un nome. Che importa da dove venissero o dove andassero. Sono morti, noi no. Quindi proviamo a restarlo. Le hanno chiuse per bene, queste pare. Perché sigillarle con le catene? Guarda questa. Sembra per bambini. Non voglio sapere. Andiamoci. Che succede? Shhh. Che c'è? Guarda! Cosa c'è? Vuoi farmi spaventare a morte? Eh? Perché non ce ne andiamo? Diamoci una mossa. Basta, giri questo, c'è. D'accordo. Cos'è che fa questo rumore? Quale rumore? Wow. È tutto lindo e pulito. Merto! Ehi, non è il momento di scherzare. Dico sul serio. Non ne posso più. Guarda! Ma che cazzo? Non toccarlo! Perché l'hai toccato? I medicinali saranno tutti scad... Aspirina. L'emicrania è uno dei pochi problemi che non ho. Spero non sia un velato riferimento a me, signorino. Alla prossima. Dio santo, questo è morto di paura. È evidente. Ok, allora, questo tipo soffriva di appendicite ed è piuttosto comune, ma poi è stato stroncato da un infarto, che di comune non ha niente. Hashtag no, no. Non sembra affatto tossico. Grazie a tutti. Dove mi stai portando? Perché dovrei dirtelo? Dimmi dove cazzo stiamo andando! Ehi! It's dumb! It's dumb! Grazie a tutti. Ok, vieni fuori. Fatti vedere. Chiamolo. Questo cazzo di posto è infestato. Ecco qui. Cos'era qui a Roma? Ma di cosa parlo? Non voglio sentire un'altra parola. Osson! Ti prego, non devi farlo per forza. Gesù! Oddio! Oddio! Quel tipo! Quel tipo forse è ancora qui. Cioè, se muori qui, il tuo fantasma resta. Riprenditi. Dici cose senza senso. Ma dove sono finiti i tuoi amici? Non so che cazzo sta succedendo qui. Ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Forza! Olson! Merde! Qu'est-ce che tu fai? Cosa? Non so che cazzo sta succedendo qui sta succedendo qui sta succedendo qui sta succedendo qui sta succedendo. C'est quoi ce bordel? Fais da! Che accidenti! Che accidenti! Grazie a tutti. Perda. Ehi là. C'è qualcuno? 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 C'è qualcuno?